boys bentornati sul canale oggi incredibilmente ho dormito 5 ore ora ci vedo ora posso registrare oggi boys andiamo a vedere quando le carte con scritto when perdono il timing è un ruling molto semplice che però magari non sapete bene come funziona quindi il bash oggi ve lo spiega però prima di tutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like per il supporto inoltre come sempre lo sapete andatemi a seguire su instagram mi trovate come bastardo 7 fatelo ragazzi fatelo e detto questo io oggi andrei a parlare del when allora oggi vi vado a spiegare perché le carte con la parola when possono perdere il timing e il motivo per cui lo perdono magari qualcuno lo sa magari qualcuno non lo sa per bene e oggi lo andiamo a rivedere con gli esempi ok gli esempi pratici perché qua non è che si parla e basta qua si fanno vedere le cose allora gli effetti opzionali che iniziano con when possono perdere il timing come e perché allora a differenza degli effetti che iniziano con if quindi con se se questa carta viene evocata bla 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 gli effetti con la scritta when hanno l'obbligo che prima della condizione di attivazione quindi della richiesta per esempio quando un mostro viene evocato bla 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 l'ultima cosa accaduta sia solo quella quindi quando il mostro viene evocato scarta una carta se prima è successa un'altra cosa l'effetto perde il timing ok adesso vi faccio vedere degli esempi pratici allora boys stiamo qua nel simulatore adesso vi faccio vedere pattern il grande pattern lui dice quando questa carta è mandata al cimitero due punti la puoi bandire dal cimitero evoca specialmente un pattern dalla mano o dal deck come vedete è un effetto opzionale perché ha you can ok quindi inizia con when la richiesta è quando viene mandato al cimitero tu puoi bla 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 gli effetti che iniziano con when bla 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 per risolvere richiedono che l'ultima cosa accaduta sia solo ed esclusivamente quella richiesta quindi in questo caso pattern deve essere mandato al cimitero e non deve succedere nient'altro adesso vi faccio vedere come lui perde timing con l'evocazione normale di teschi evocato parto con normal pattern questi ovviamente sono i miei tutorial fatti proprio con la fantasia doppia evocazione tributo teschi evocato evocando teschi evocato pattern non parte ma teschi evocato non è che fa catena non fa niente semplicemente l'ultima cosa che accade è l'evocazione tramite tributo che praticamente va a dar fastidio all'effetto opzionale di pattern e quindi pattern non triggera adesso vi faccio vedere sempre con pattern in questo caso andiamo a fare cambio di maschera tanto per evocare dark law e vedete che praticamente non succede niente qui sto sempre controllo il mio carissimo bot che gioca alla nera normal pattern cambio di maschera mando al cimitero evoco dark law pattern non triggera perché l'ultima cosa accaduta è l'evocazione di dark law non è che c'è stata un'altra catena semplicemente l'ultima cosa accaduta è l'evocazione di dark law e quindi pattern non ha funzionato adesso vi faccio vedere però un'altra cosa tributo torrenziale dice quando uno o più mostri vengono evocati distrugge tutti i mostri sul campo ok quindi la condizione di attivazione di tributo torrenziale è che uno o più mostri devono essere evocati andiamo a vedere sharen l'effetto di sharen dice durante la main puoi evocarla specialmente dalla mano e se lo fai manda un mostro dalla mano al cimitero then manda le prime tre carte del tuo deck al cimitero adesso arriva il quiz del bash se io attivo l'effetto di sharen posso sull'evocazione attivare tributo torrenziale avete 10 secondi per rispondere nei commenti con si o no la risposta è no adesso ve lo spiego qua ovviamente perdo sempre il dado perché contro il bot è impossibile vincere il dado tra l'altro in questo gameplay vi faccio vedere anche come funziona Patton perché ovviamente Patton può risolvere non è che non risolve mai il mio avversario distrugge Patton in questo caso l'ultima cosa accaduta è semplicemente lui che è andato al cimitero perché ho preso danno è andato al cimitero non è successo niente e ho potuto attivare Patton adesso tocca a me e vedete questa cosa magica vado ad attivare l'effetto di sharen la specialo scarto una carta millo le tre carte e poi ovviamente tributo torrenziale mi parte su teschi evocato perché non ho potuto fare tributo torrenziale su sharen per il semplice motivo che l'ultima cosa che accade dopo che sharen entra in campo è la millata quindi sharen si speciala manda il mostro dalla mano al cimitero then milla tre carte dal deck al cimitero l'ultima cosa accaduta infatti è stata la millata la millata va a far perdere timing a tributo torrenziale e ovviamente anche a tutte quelle carte tipo i buchi trappola perché i buchi trappola so come tributo torrenziale quando viene evocato bla 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 l'ultima cosa successa di sharen è stata la millata e questa praticamente va a far perdere il timing a tributo torrenziale e invece l'evocazione tramite tributo classica va a triggerare tributo torrenziale perché ovviamente l'ultima cosa che è accaduta è l'evocazione di deschi evocato adesso vi faccio vedere un altro mostro che perde timing nello stesso esempio ovvero cavaliere dell'armageddon lui dice when this card is summoned you can send un dark monster from your deck to the graveyard il mio inglese migliora sempre giorno dopo giorno il nostro carissimo amico è un po' come petan perché dice quando viene evocata puoi mandare è un effetto opzionale che inizia con when ho riperso il dado perché è impossibile vincere il dado contro il bot normal cavaliere dell'armageddon e va a millare petan petan in questo caso si attiva perché l'ultima cosa successa è stata la millata di petan quindi petan è andato al cimitero non è successo nient'altro né prima né dopo e si è potuto attivare adesso vi faccio vedere una cosa veramente simpatica una cosa che tantissimi anni fa mi ha fatto litigare tipo con una decina di persone perché nessuno mi credeva poi alla fine c'ho ragione io vi faccio vedere goblinberg ok questo bastardo figlio di puttana di goblinberg cosa dice quando questa carta è evocata normalmente due punti può evocare specialmente un livello 4 o inferiore dalla tua mano also after that change this card to defense position quindi le congiunzioni le sprechiamo qua guardate che cosa fa goblinberg che è molto simpatico allora easy normal goblin effetto vado ad evocare cavaliere dell'armageddon lui si mette in difesa non fate caso al replay che continua lui si mette in difesa e cavaliere dell'armageddon non risolve assurdo non risolve perché ovviamente l'ultima cosa successa non è stata l'evocazione di cavaliere dell'armageddon ma goblinberg che va in difesa quindi questa azione di goblinberg che va in difesa fa missare il timing a cavaliere dell'armageddon assurdo e poi ovviamente qua faccio cambio di maschera bla 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 scarto peten e come vedete peten non parte perché ovviamente è stato scartato di costo proprio peten sta lì non fa un cazzo però questa cosa assurda perché ovviamente goblinberg su evocazione ci porta il cavaliere dell'armageddon e poi si mette in difesa mettendosi in difesa l'ultima cosa accaduta non è l'evocazione normale del cavaliere ma è lui che si mette in difesa e quindi il cavaliere perde timing allora adesso boys vi faccio un appunto perché magari qualcuno si potrebbe confondere con ferrir e unicorno i cash tira del cazzo il loro effetto inizia con quando questa carta dichiara un attacco però non finisce lì dice anche o se il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro quindi i cash tira non perdono timing perché hanno if ok hanno se quindi state attenti perché magari che ne so per sbaglio iniziate a litigare con qualcuno perché dopo avete visto questo video dite no perché ho visto il video del bash e c'è scritto when quindi ferrir perde timing no i cash tira non perdono timing perché hanno if ok avendo if le carte non perdono timing perché con la parola if quindi con la parola se l'importante è che ci sia la condizione d'attivazione poi se succedono altre cose nella catena non importa l'effetto può risolvere ok boys spero che questo video vi sia stato d'aiuto se per caso avete qualche dubbio scrivetelo nei commenti che appena posso vi rispondo come sempre lasciate un like per il supporto cerchiamo di superare i 300 like se volete altri video sui ruling perché a me fa molto piacere alla fine il mio scopo su youtube è quello di aiutare i principianti a tornare a giocare a questo gioco purtroppo mi dispiace cambiate gioco fate l'altro per favore non giocate io io per favore per favore alla fine il mio scopo è quello di aiutare i nuovi giocatori a entrare in questo fantastico mondo di merda di yugioh cerco di fare il possibile voi però cercate almeno di supportare con i like ovviamente poi andatemi a seguire su instagram lo sapete mi trovate come bastardo 7 fatelo ragazzi fatelo e detto questo noi si beccamo al prossimo video let's go ciao